Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti al commento, all'analisi della partita e alle pagelle di Cremonese, Ellas e Verona La partita di questa 32esima giornata dove si giocavano i punti più pesanti Anche se i medi ovviamente si sono concentrati sulla possibilità del Napoli di vincere lo scudetto matematicamente Ma io mi sono concentrato fin da subito su questa partita perché Ellas e Cremonese si giocavano il proprio destino In questa partita, che è vero siamo a 6 giornate dalla fine, ma era una partita da dentro o fuori per entrambe La Cremonese cercava una vittoria per andare a meno 5 dalla zona salvezza con lo scontro diretto con lo Spezia la prossima giornata Quindi praticamente affrontava terz'ultima e quart'ultima E quindi si giocava la possibilità di rientrare in maniera prepotente nella corsa salvezza Mentre invece il Verona si giocava la possibilità per la prima volta da inizio campionato di uscire dalle ultime 3 Perché con la sconfitta dello Spezia maturata ieri contro il Monza il Verona poteva fare il sorpasso Che partita è stata? È stata una partita divertente, per me spettatore neutrale ovviamente è stata divertente Dove le due squadre ormai abituate da mesi a giocare solo per vincere Non si sono preoccupate minimamente della fase difensiva e hanno giocato per cercare la vittoria Ma è giusto che sia così perché il punto, che poi è il risultato che è venuto fuori Non serve a nessuno, sicuramente è meno negativo per il Verona Perché comunque è un punto che le permette di agganciare lo Spezia Anche se è sotto per gli scontri diretti E da ora in avanti insomma ha il suo campionato dove deve fare un punto più dello Spezia Sostanzialmente Poi Lempoli ha perso contro il Sassuolo Quindi anche Lempoli è di nuovo in ballo Mentre le vittorie di Lecce e il pareggio della Salernitana lasciano un pochino d'ossigeno a queste due Però sicuramente Spezia, Verona e Lempoli se ne devono giocare Però sono due punti persi per il Verona Perché la Cremonesi ha giocato per quasi tutto il secondo tempo in 10 Il Verona aveva trovato il pareggio E gli è mancato il guizzo per trovare la vittoria Perché poi sostanzialmente a parte il colpo di testa di Braff Non ci sono state grandissime occasioni Per la Cremonese Il pugno di quagliata a Davidovic è la pietra tombale della stagione Perché a questo punto a meno 7 con 6 giornate dalla fine E con gli scontri diretti sfavorevoli contro il Verona Vuol dire 8 punti da recuperare E due squadre da superare con 6 giornate dalla fine Ormai direi che la Cremonese saluta la Serie A Non in via matematica Però questa era la partita da vincere a tutti i costi Per darci un'ultima possibilità E la Cremonese l'aveva indirizzata bene Con il gol di Occhere che subito inizia partita E poi l'ha buttata via Ma l'ha buttata via per colpa di una follia Completamente ingiustificata di quagliata Che Ora io non so Fino a che punto si possa arrivare a prendere provvedimenti contro un calciatore A livello di multe Non lo so Ma quagliata veramente Merita di essere mandato in esilio Da Cremona Perché Ed è un giocatore che vi dico la verità A me Non mi era nemmeno mai dispiaciuto più di tanto L'ho sempre ritenuto un buon giocatore Non ho sempre parlato bene sul mio canale Però Questa reazione Su Davidovic Che tra l'altro Non aveva fatto niente di eccezionale Stava semplicemente marcando il suo uomo E tanto Davidovic Da che sembra A vedere le partite Cioè Non è Mancini Cioè Un giocatore corretto Un giocatore tranquillo Non capisco sinceramente perché Quagliata deve aver fatto una follia di questo tipo Che ha condannato la sua squadra a giocare in 10 per 40 minuti Con la paura D'essere recuperata Quando era in vantaggio E la partita si era messa tutto sommato bene Quindi Quagliata è il principale artefice di questo Di questo disastro della Cremonese Oggi quantomeno E la partita Come dicevo è stata divertente Ci sono state tante occasioni da gol Da una parte e dall'altra Il Verona ha costruito tanto Con le palle lunghe Ha giocato con Diuric Centra avanti titolare Proprio per giocare sui cross Quindi Erano stati messi De Pauli E l'Azovic sugli esterni per cross Ma anche Verdi È un giocatore che tende ad andare sull'esterno Per cross Cioè non è che tende ad andare Sa fare anche quello Non è che È un giocatore che di natura si decentra Però Sa fare anche quello Però Diuric non è stato trovato molto Neanche Nelle richieste di far sponda Cioè Un giocatore che è stato Non dico trascurato Però È stato cercato Ma non trovato E anche lui Non si è mosso benissimo Il Verona però Ha costruito Delle Delle situazioni importanti Anche su palla inattiva L'Azovic Ha messo dei palloni Interessanti È un giocatore che è mancato tanto Nell'ultimo mese e mezzo Ha messo dei bei palloni Però si è anche mangiato un gol Su Un'uscita a vuoto Di Carnesechi Che ne ha fatte più di una In questa partita Cioè Ogni volta che c'è una palla alta Carnesechi Va a giro per l'area di rigore Senza un motivo E Anche la parata che fa Sul coppieteste Davidovic Aiutandosi con la traversa È costretta a fare Una parata impegnativa Perché era uscita a vuoto Anche in quel caso Cioè È un giocatore Più di una volta fa Esco non esco No Quell'indecisione nell'uscita Che un portiere non deve mai avere Perché Trae in inganno Anche i tuoi difensori Perché ti vedono fare il passo in avanti Vedi magari Sono portati per lasciarti il pallone E se poi tu non esci Il giocatore avversario Colpisce indisturbato di testa Carnesechi Veramente a livello di Sicurezza al reparto Un disastro assoluto Sotto questo punto di vista Il Verona Si è mangiato dei gol Uno con Callon A inizio partita di testa Uno con Lazovic Sull'uscita a vuoto Di Carnesechi Che di testa non ha trovato la porta Era porta vuota Non era semplicissimo Però insomma Almeno la porta Lì si poteva prendere C'è stata un'occasione Ha colpito il portiere Che era ben posizionato Stavolta Però insomma Da lì sicuramente va Bisogna colpire meglio Però le occasioni più importanti Le ha avute sicuramente la Cremonese Il gol Arriva Arriva su un retropassaggio Sciagurato Di De Paoli Che si era capito Da mezz'ora Che avrebbe fatto Quel retropassaggio Ma questi retropassaggi Quando hai l'uomo addosso E vanno Vanno fatti Con cautela Insomma Sono errori Grossolani Secondo me Tutto sommato Anche nelle intenzioni Poi parlare col senno di poi E parlare dalla poltrona È facile No? Perché Se non avesse fatto Un retropassaggio sbagliato E l'avesse fatto giù Non ci saremmo nemmeno Nessuno di noi Si sarebbe accorto Della pericolosità Di quel retropassaggio Però hai l'uomo addosso Che è veloce E lì Sai di essere scarso Sai che sei sul piede Scarso A livello tecnico dico Sai che sei sul piede debole Che c'è È una palla che rimbalza Non è facile Come giocata Lì Dovresti giocare più semplice La butti in fano laterale E rizzati E invece La follia di 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 De Paoli Che apre il campo A Okereke E poi anche lì Male Magnani Perché Magnani Era ovvio Che Okereke Si sarebbe accentrato Sul suo piede È una giocata tipica Quindi vuol dire che Ha letto male il giocatore O è stato addirittura Preparata male La partita su Okereke Magari non si aspettavano Giocarese titolare Non lo so Però Era una giocata Telefonatissima Quella di Okereke Magnani è andato Dall'altra parte Poi Okereke è stato bravo A battere Montipò Montipò Che poi Si supera Sul colpo di testa Di Ciofani Che si smarca bene Da Ien E di testa Schiaccia Quindi costringe Montipò Una parata Impegnativa Perché i palloni Che rimbalzano a terra Sono sempre difficili Per i portieri Quindi fa una buona parata E poi fa un'altra Bella parata plastica Su Desserts Che si mangia il gol Perché il cross di Valeri È perfetto E lì Desserts È completamente solo Doveva fare meglio E invece ha colpito di testa Senza angolare Senza schiacciare Quindi Ha permesso a Montipò Di fare una parata Per i fotografi Ovviamente efficace Importante Però Una parata Che 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 è Frutto di un errore Di poca incisività Di Desserts Che è entrato in partita E ha fatto danni Perché oltre Ave sbagliato Questo Questo goal E ha perso anche Due o tre palloni In uscita Insomma Molto pericolosi Tra cui Se non erro Quello da cui nasce Il gol dell'1-1 Che è un bellissimo goal Perché viene gestito bene Da Dal Lazzovic E da Veloso Sull'esterno Magnani Si fa perdonare L'errore sul goal Già nel primo tempo Aveva tirato un missile Di sinistro Un tiro bellissimo Che non so da dove Gli sia venuto fuori Andato vicino al goal personale E Nell'occasione invece Del goal di Verdi Fa una bella giocata Lì sull'esterno E Fa una finta di cross Da 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 esterno puro Lui che è un centrale Invece di Proprio naturale E Va Va sul fondo E mette un bel cross Calibrato Sul secondo palo Dove Aiwu Si fa attrarre Ingenuamente Da Da Diuric Perché va a fare Un raddoppio di marcatura Ma completamente senza senso Su Diuric Sia perché è già marcato Sia perché Tanto Diuric Se lo vai a marcare Da dietro E sei 20 cm meno Come puoi pensare Se il cross fosse per lui Come puoi pensare Di ostacolarlo Cioè è proprio Impossibile E La palla arriva Su Verdi Che è quindi Lasciato solo Da Aiwu Calcia al volo Una coordinazione bella Poi è fortunato Sicuramente Perché la palla Rimbalza Quindi è un tiro sporco Che finisce Precisamente Nel set Perché c'erano due Giocatori della Cremonese Lì Sulla linea Pronti a intervenire Che avevano letto bene La pericolosità Dell'azione Tutti e due Ma la palla di Verdi È imprendibile Per loro Perché è veloce Schizza sul terreno E si insacca Proprio sotto la traversa Quindi È un gol Bello Ma anche fortunoso Nella traiettoria Che assume il pallone E Poi Sicuramente L'espulsione Quagliata Ha indirizzato la partita Quanto meno A livello psicologico Perché il Verona Non l'aveva approcciata Benissimo L'aveva approcciata Molto meglio La Cremonese Ma Questa cosa Di Quagliata Che Ora io Sto facendo il video Perché Non ho visto il post partita Ma sarei curioso Di sentire Cosa ha da dire Ballardini O chiunque Insomma Che Che faccia le vesci Della Cremonese Cosa ha da dire Su questo episodio Di Quagliata Perché è qualcosa Che Io non mi spiego Cioè Già di base In una partita Così importante Dove ti giochi punti Che pesano un macigno Come puoi fare Una stronzata Del genere Cioè Già di base È una cosa Ingiustificata Ma poi È ingiustificata Perché non era Una partita Nervosa Cioè lui Era entrato Da cinque minuti Era entrato Da cinque minuti E non è che fosse Successo qualcosa Prima che potesse Fare innervosire La Cremonese Cioè Io sinceramente Non me la spiego E ribadisco Che per me Quagliato Dovrebbe essere Sanzionato Pesantemente Dalla propria società Poi I due episodi Arbitrali Un pochino Più discussi Sono stati Vabbè Allora Tutti Gli ipotetici Calci di rigore Per falli di mano Non c'erano Tutti i bracci Attaccati al corpo I due episodi Arbitrali Discussi Sono stati Dovere che ha fermato Il contropiede Della Cremonese Perché c'era Magnani A terra Per regolamento È giusto Perché Magnani Essendo a terra Da ultimo uomo Praticamente Inficia in maniera grave L'equilibrio E l'azione Del gioco Quindi Era un'azione Che partiva Comunque Dalla difesa E quindi Secondo me Ci sta Ed è corretto Fermare il gioco Non è Un contropiede Solo davanti al portiere Cioè Era un contropiede Doveva ancora partire Comunque Il Verona Era piazzato Non è che era Completamente scoperto Per cui Secondo me Dovere ha fatto bene A fermare l'azione E poi Sul finale L'intervento Di Diuric Su buon aiuto Che Detto Sinceramente Poteva portare A rigore Cioè Per come Interpreto io Il calcio Per come Interpreto io L'arbitraggi Che vengono Generalmente No Eseguiti In serie A Quello è più rigore Che no Cioè E poi È un contrasto Però è un contrasto Abbastanza violento Perché Diuric va dritto Sull'uomo Poi va dritto Sull'uomo Guardando in alto Perché guarda Il pallone Però va dritto Sull'uomo Buon aiuto A buon aiuto Viene impedito Di giocare il pallone Cioè Perché viene contrastato Fisicamente Col pallone ancora in aria Quindi Per quanto mi riguarda Gli estremi Per calcio di rigore C'erano Poi capisco La situazione Che Doveri Valuta il contrasto Da gioco È una Interpretazione Che io non condivido Ma che ci può stare E quindi Per protocollo VAR Siccome non si tratta Di chiaro errore Il VAR Non può intervenire E quindi Alla fine poi L'interpretazione Di doveri Quella che poi fa Pendere l'ago Della bilancia In favore del Verona In questo caso Però è una situazione Che ci sta Secondo me Non è Non è uno scandalo Per come la vedo io Non è uno scandalo E Però io avrei dato rigore Questo Questo è Il mio parere Diuric è un cinghiale È un cinghiale Perché Su una palla A campanile In aria Non c'è nessun motivo Di entrare con questa Precipitazione Sull'uomo Cioè Tanto Buonaiuto Non c'è Parliamoci Buonaiuto Non è Ronaldinho Non è che mette giù Un campanile del genere E tira al volo Cioè Non è Nelle sue corde Quindi Anche Anche tu avessi lasciato Rimbarzare il pallone Buonaiuto Al massimo La stoppava E la passava indietro Non è che potesse fare Grandi cose Diuric Ecco La pericolosità Dello schiacciarsi in difesa E poi in difesa Ti ritrovi giocatori Inadatti Alla fase difensiva Come Diuric Succedono queste cose Quindi È un punto che Per la Cremonese Sa di condanna Come dicevo prima Perché rimane Troppo indietro Perché Non Secondo me Ora non ci sono più Le possibilità Per fare una Rimonta Paga Sicuramente Tante cose Nella stagione Ma Quello che paga Realmente In maniera grave È stato quello Di non cacciare Alvini Prima Cioè Alvini A cui Penso tutti Volessero bene Perché comunque È stato L'artefice Della promozione È una persona Squisita Un uomo Di calcio Da altri tempi Che non puoi non apprezzare Però Non ci stava Capendo tanto In una serie A Di basso livello Intendo che ti salvi Con 33 34 punti Non con 40 E la cremonese Stava facendo Molto male Non giocava male Ma gli mancava Proprio la mentalità La mentalità Da serie A E quindi doveva Doveva cambiare Prima E questa sicuramente L'ha pagata Per quanto riguarda Invece Per quanto riguarda Il Verona È un'occasione persa Perché A subito A numerica Ha Ribaltato L'inerzia mentale Della partita Non è riuscita A sfruttare Sta cosa Anzi Ha rischiato Di perderla Quindi poi Alla fine Un punto Va bene Per come è andata La partita Perché forse Il Verona Non meritava Nemmeno quello Però Giochi contro La Cremonese La Cremonese Gioca in 10 Quasi tutto il secondo tempo Non riuscire a portare A casa la vittoria È sicuramente Un rammarico Però È colpa sua Cioè è colpa del Verona Che non ha fatto Una bella partita Veniamo Alle pagelle Delle due squadre Cominciamo come sempre Dalla squadra di casa Allora Carne secchi A carne secchi Diamo 6 Perché è vero Che è molto reattivo Sul colpo di testa Di Braff Più che altro Una bella parata Di posizione Però è tanto vero Come ho detto prima Che va sempre a giro Per l'area Senza un criterio Non dà assolutamente Sicurezza al reparto Un paio di volte Lascia la porta sguarnita Quindi Gli è andata anche bene Insomma Che anche Lazovic Ha sbagliato il gol A porta vuota Gli do 6 E sono generoso Difesa Allora Valeri 6 e mezzo Mi è piaciuta la partita Ora non ricordo Se è stato lui Quello saltato Da Magnani In occasione del gol Ma è indifferente Lì Magnani Fa una bella giocata Anche perché non te l'aspetti Da un difensore centrale Rozzo come lui Una giocata di fino Così Però Valeri Ha messo dentro Un quantitativo di palloni Pericolosissimi Veramente incalcolabile Tra cui l'assist Per il colpo test Ai Dessers Verso il finale di partita Quindi Valeri Strapromosso È comunque Il giocatore Che ha dimostrato di più In questa stagione Della Cremonese 6 e mezzo Per Valeri E poi Aiwu 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 è colpevole In occasione del gol Perché si fa attrarre Da Diuri C'è sbaglia Sbaglia proprio Ad abbandonare Verdi Anche perché Quasi tutti i cross Del Verona In tutta la partita Sono stati orientati Sul secondo palo Quindi Anche per una questione Proprio di abitudine Alla partita Non devi estringere Verso l'area di rigore Quindi è una lettura Completamente sbagliata Di Aiwu Che poi porta Al gol Del Verona Però la partita di Aiwu Complessivamente Non è stata negativa Fisicamente si è fatto Ben Ben Rispettare Insomma Una partita Meglio del solito Ecco Però Aiwu Ci mette sempre il suo Cioè La cazzata che fa subire Il gol alla Cremonese La metà delle volte È sua Insomma Sicuramente un giocatore Non adatto A questa categoria Gli diamo Cinque e mezzo Poi Vasquez Vasquez Mi è piaciuto Ecco Un altro giocatore Per cui non stravedo Ma che oggi Ha fatto una bella partita Di letture Di diagonali Di Anche Fisica Insomma Ha concesso poco spazio Dalla sua parte Una partita sicuramente Positiva Sei più per Per Vasquez Locoschville Invece 6 e mezzo Poi è stato sostituito Per Per l'assalto finale Però la partita Locoschville Di grande È sicuramente Il difensore migliore Di questa squadra Insieme a Ferrari Ed è uno che Che proprio si fa Si fa proprio Valere Fisicamente Ma anche di carisma Cioè Legge bene Le situazioni Guida la difesa Non è mai fuori posizione È un giocatore Che Di categoria superiore Sicuramente Quindi gli diamo 6 e mezzo Ed è sicuramente Il migliore Del reparto Difensivo Ah E Valeri È il migliore in campo Per me 6 e mezzo Valeri È il voto più alto Che do ai giocatori Della Cremonese Ed è il migliore in campo Poi Centrocampo Pickel Ma una partita Un po' anonima Cerca la posizione In campo Senza trovarla E questo È un po' la sensazione Che ho avuto Un giocatore Che Che è arrivato In Italia Come recupera palloni E poi è stato schierato Esterno in centro Ampo Treguartista Dappertutto Tranne che dove Saprebbe giocare meglio Cioè davanti alla difesa Gli diamo Un 6 e meno Castagnetti Mi è piaciuto Castagnetti Bella partita Di Di regia Ecco È una partita Da regista Ha fatto girare bene Il pallone Ha Allargato il gioco Bene Con delle aperture Precise Lunghe Bella partita 6 e mezzo Per Castagnetti Mi è piaciuto Anche Meite Che fisicamente Si è fatto rispettare Che Che ha vinto Dei contrasti Ha dato una grossa Mano in difesa E Insomma Una partita Di utilità Tattica Importante 6 più Per Meite Galdamesh Galdamesh Allora Ha fatto anche Quel tentativo Di tiro al volo Che era uscito Abbastanza bene Ma centrale Insomma Galdamesh Nel vivo del gioco C'è stato Però è Tutto fume Niente arrosto Cioè Un giocatore Che poi alla fine La giocata decisiva Non te la fa 5 e mezzo Ciofani Ma Ciofani È una buona partita È andato anche vicino Al gol individuale E con Colpo di testa E ha fatto La lotta Lì contro i difensori Del Verona Che sono tosti E Cioè Ien soprattutto È un difensore tosto E quindi Ha fatto Ha fatto la sua partita 6 più Okere che Ha fatto gol Poi è un po' sparito Cioè Ha fatto Un bel gol Leggendo l'errore Di De Paoli E accentrandosi Dribblando Magnani E calciando bene Sul secondo palo Senza Tirarla angolatissima Ma il tiro raso terra È difficile da parare Per il portiere Perché deve andare giù E quando invece Tu tiri a mezza altezza Gli dà la possibilità Di 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 poterlo parare Se Con Con riflessi e reattività Invece il tiro raso terra Anche se non ha riflessi e reattività Può non arrivarci comunque Proprio per Per il poco tempo A disposizione Per andare giù Quindi Ha calciato bene E Però poi un po' sparito Dalla partita C'è da dire Che il Verona Non ha concesso Tanto la profondità L'ha cominciato A concedere Nel secondo tempo Quando la partita Si è un po' Aperta E o che re che è uscito E infatti Secondo me Quella è una scelta I ballardini Da rivedere Perché Perché secondo me Che re che poteva essere letale Lui lo ha tolto Ha messo Felix Ma Felix È un mezzo giocatore E Invece che re che è uno Molto più concreto Uno che comunque È maestro In quelle situazioni Anche l'anno scorso Al Venezia Ne ha fatti tanti Di gol In contropiede Attaccando la profondità Alle spalle E la difesa Quindi Io avrei lasciato Che re che in campo Perché L'ultimi 20 minuti Con La cremonese In 10 Erano quelli In cui il Verona Lasciava più spazio Perché attaccava Con più uomini Quindi la scelta I ballardini Che non ho condiviso 6 e mezzo Per lo che re che Subentrati Ferrari Gli diamo 6 più Perché è entrato bene In campo Ha fatto delle buone Chiusure Felix 5 e mezzo Perché ha avuto Delle opportunità In contropiede L'ha sciupata Stoppando male il pallone Dessers Dessers 5 Perché Perché è entrato male In partita Ha perso tanti palloni Che invece sono quelli Dove lui è bravo No Fa salire la squadra Ha fatto quel disastro Davante alla porta di testa Dove doveva sicuramente Colpire meglio Quindi 5 per Dessers E peggiore in campo E Quagliata A Quagliata Do per la prima volta Nella storia del mio canale Che è recente Perché è aperto da Un anno e mezzo Quanto Una roba del genere Io A Quagliata Do Zero Do zero Perché un giocatore Che in una partita così Entra in campo E dopo 5 minuti Si fa buttare fuori Per un cazzotto Nello stomaco A un giocatore avversario Senza nemmeno Essere stato provocato È qualcosa di inconcepibile Cioè io I miei voti Vanno dal 4 All'8 Penso in Tutti i miei video Su youtube 3 o 4 volte Avrò dato 3 barra 3 Mezzo Zero Non l'ho mai dato Ma è il momento Di darlo Quagliata Entrerà nella storia Del mio canale Come l'unico giocatore Aver preso zero Perché Veramente è una cosa Ingiustifiabile Zero per Quagliata Voto a Ballardini Non è colpa sua Se Quagliata Fa una stronzata Del genere Perché È impensabile Perché poi anche lui È un giocatore tranquillo Non è un giocatore Rissoso Da un Mario Rui Te l'aspetti Una cosa del genere Può farla Se si chiude la vena La può fare Quagliata Non è un giocatore Che fa queste cose Quindi È proprio Inspiegabile Quello che è successo Non mi è piaciuto Il cambio di Occhereche Però la partita È stata preparata bene La cremonese Ha giocato meglio Anche in inferiorità numerica Ha avuto più presupposti Per trovare il gol Del vantaggio a cremonese Piuttosto che il Verona La partita L'ha fatta Quindi Diamo 6 e mezzo A Ballardini Nonostante il cambio di Occhereche Che non condivido Voti Al Verona Allora Montipò Gli diamo 6 e mezzo Perché le parate Sud esserse E Ciofani Sono importanti E poi lui Invece sicurezza Al reparto Al contrario Carne secchi La dà Quindi Un bel portiere Montipò Gli diamo 6 e mezzo E Nonostante Le parate Non siano difficilissime Però ti devi far trovare Nel posto giusto Devi essere attivo Quindi bravo Montipò 6 e mezzo Difesa Allora Davidovic Il migliore Secondo me Del reparto difensivo A parte propizia L'espulsione di Quagliata Ma non penso neanche Sia un merito Però È bravo Nelle letture È bravo Nelle palle alte Ha giocato come contro il Bologna Ha giocato bene Ha giocato bene E Quindi gli diamo Un bel 6 e mezzo Magnani Magnani è colpevole sul gol Perché lascia troppo Troppo Spazio alla giocata Prevedibile Di Okereke Quindi Legge malissimo La situazione Lippo però Prende un po' le misure E poi Davanti è più pericoloso Di quanto non sia efficace Dietro Perché va vicino al Gokko Quel sinistro Meraviglioso Da fuori area E poi Serve l'assist Perverdi Con una grande giocata Quindi Voglio dare Complessivamente Per la partita Di Magnani 6 più Ien Allora Ien Si perde Ciofani In occasione Di quel colpo di testa Dove Montipò Para Basso Lo marca male In quella circostanza Però Tutto sommato È l'unico errore Della partita Di Ien Che poi Soprattutto Nel secondo tempo Cresce di prestazione Gli do 6 Perché l'errore Su Ciofani È grave Poi Non porta il gol Perché Ciofani Non riesce A indirizzare Benissimo E perché Montipò Para Però L'errore In marcatura Lì è grave Quindi gli do 6 A Ien Centrocampo Allora Abilgard Non mi è piaciuto Perché ha fatto Una discreta partita In fase di Di interdizione Ma nemmeno così tanto È stato saltato Comunque Non è riuscito A impedire Secondo me Doveva andare Molto più a uomo Su Castagnetti Invece gli ha lasciato Tanto spazio E E in fase invece Di impostazione Male Molto male Quindi Abilgard Gli diamo 5 e mezzo E Tamez È partita Da mestierante Insomma Una partita Senza infamia Senza lode Anonima Ma non in negativo Ecco Una partita da 6 Da 6 No Politico Sugli esterni Allora De Pauli De Pauli È il peggiore in campo Perché Quel retropassaggio Da cui poi scatta il gol Della Cremonese È sbagliato in tutto Perché È un retropassaggio Di sufficienza È molto simile A quello che fece Manolas Contro la Juve Non so se ve l'ho ricordato In quel Napoli Juve Non mi ricordo Chi fece gol Della Juve Però Manolas Fece un retropassaggio Di questo tipo Dove poi Non colpì bene Il pallone E partì E partì Il gol Della Juve È molto simile Proprio stessa dinamica Io penso Che Che Sia sbagliata Anche l'intenzione Poi ribadisco Che dirlo Dopo Dopo aver visto Come è andata a finire È facile Però Lo risottolineo Palla che rimbalza Sul piede Debo Stai correndo all'indietro Cioè a fianco Un giocatore Molto più veloce Di te Non è la scelta giusta È un rischio È un rischio Che non doveva Corrersi E poi La partita di De Paoli Comunque Viene condizionata Psicologicamente Da questa cosa Puglia botte Perché Puglia la botte Il naso Il sangue nel naso Poi la spalla Esce per infortunio Cioè Fuori partita Con quell'errore Esce mentalmente La partita Gli diamo 5 meno Ed è il peggiore In campo Del Verona L'Azovic Dall'altra parte Allora Si mangia quel gol Perché di testa A porta vuota Devi trovare lo specchio Poi se Carne secchi La spinta sulle gambe E ti pare al pallone Bravo lui A coprire il suo errore Però Tu la porta La devi prendere Sennò l'errore è tuo Quindi carne secchi male E scusate L'Azovic male In quella situazione Però poi la partita È importante Cioè Su quella fascia Mette dei bei palloni Fa l'assist per Braff Insomma La partita di L'Azovic È sicuramente positiva Gli diamo 6 più E Poi Tre quarti Callon male Inconsistente È proprio un giocatore Abbastanza inutile Ma L'ho già detto più volte È un giocatore Che non capisco Perché gli venga dato Tutto sto spazio Addirittura a titolare Nella partita dell'anno Cioè Duda non aveva giocato bene Contro il Bologna Però è un giocatore Di qualità superiore Rispetto a Callon Ngonge Si è mangiato Wego a Napoli Ad attaccarlo al muro Però è un giocatore Che ha il guizzo No È entrato Braff Ha costruito molto di più Anche se viene servito poco Bisogna ammetterlo Però Si fa anche vedere poco Quindi il primo tempo È insufficiente Ma nel secondo tempo Sale in cattedra Quindi Gli do 7 meno Ed è il migliore in campo Del Verona Perché comunque Il gol è pesantissimo Ed è difficile Cioè poi È fortunato Nella traiettoria Che assume il pallone Però La coordinazione Per calciare Quel pallone È di alto livello 7 meno per Verdi Diuric Allora io gli do 5 più Perché Per me ha fatto fallo Da rigore Per me quello è rigore E Poi Ribadisco che non è uno scandalo Non fischiarlo Non è un rigore netto È un'interpretazione Io ce l'ho diversa da Doveri E Però L'arbitro lo fa lui Non lo faccio io Però comunque Il rischio che si assume È come quello di De Paoli Cioè De Paoli Si assume un rischio E gli va male Diuric Si assume un rischio E gli va bene Ma Sono due rischi del cazzo Che non ti devi assumere Quindi Deuric Veramente ha rischiato Di rovinare la stagione Del Verona Con quell'intervento scriteriato E poi in generale L'ho visto L'ho visto Gironzolare Per la re rigore Ci sono stati un paio di palloni Dove poteva avventarsi Molto meglio È stato macchinoso Poi Al solito lavoro di sponda Lo ha fatto bene Quindi Gli do 5 più Perché Perché per me Ha sbagliato Tante cose davanti E Ha commesso Un quasi fallo Da rigore Subentrati Veloso bene Ha dato geometria Ha dato lucidità Nella gestione del pallone Al Verona 6 più Terracciano Buon ingresso Messo dei palloni Interessanti In area di rigore Lì sulla fascia Ehm Comunque Ha dato qualcosa in più Di quanto non avesse fatto De Pauli Quindi gli diamo 6 Braff Braff Si mangia il gol Braff si mangia il gol Perché l'ingresso In campo di Braff È positivo Però si mangia il gol Sull'assiste Ilazovic Quindi gli do 6 meno Per il gol Mangiato Però la prestazione È da 6 più Ecco La prestazione Con il suo ingresso In campo È da 6 più L'errore grave È da 5 La media Fa 6 meno Voto a Zaffaroni 6 meno Perché Il Verona Approccia male la gara Nel primo tempo Gioca meglio La cremonese La scelta di Callon Titolare Non ha senso E poi non riesce A sfruttare La mezz'ora E 40 minuti Di superità numerica 5 e mezzo 5 e mezzo Perché È un'occasione persa Per il Verona E La partita Non ti fa Comunque Recriminare Perché hai giocato male Quindi Quindi La partita E l'anno Non è stata preparata bene Come sono state preparate bene altre Il Verona col Bologna Ha fatto un partitone E Bastava ripetere Quella prestazione Evidentemente Non è nelle corde del Verona Fare due prestazioni Consecutive Di quel livello 5 e mezzo Per Zaffaroni Il mio video Si conclude qua Vi invito a scrivere nei commenti Cosa ne pensate Se siete d'accordo Non siete d'accordo Volete aggiungere qualcosa A fare domande Qualsiasi cosa Scrivete nei commenti Io rispondo Sempre a tutti Iscrivetevi al canale Se non lo siete Per supportarmi Se volete altri video Su Verona O Cremonese Tenete di conto Che io il prossimo anno Ho intenzione di portare Anche la Serie B Quindi non è che Se la Cremonese Retrocede Se il Verona Non parlerò più di queste squadre Assolutamente no Proprio perché Queste realtà calcistiche Mi piacciono Ho deciso di portare La Serie B Dove ci sono tante squadre Tante società Tanti popoli Che meritano Di essere Di essere trattati E quindi Porterò sicuramente La Serie B Il prossimo anno Iscrivetevi al canale Ve l'ho già detto Ci vediamo I prossimi video I prossimi saranno dedicati A Fiorentina Sampedoria Bologna Juventus Che guarderò In fila In sequenza Vi porterò i video Domani Quindi Buona festa del lavoro Per chi lavora Domani Noi ci vediamo Appunto domani Per i due video Delle partite Del tardo pomeriggio E della sera Ciao a tutti Ciao a tutti